mancano quattro giorni alla fine dell'anno siamo sotto il segno del capricorno la chiesa ricorda santa fabiola l'onomastico oggi è l'onomastico di fabiola il nome è di origine latina e significa colai che temporeggia il numero porta fortuna è l'uno il colore è il rosso e la pietra associata il rubino accadde oggi il 27 dicembre del 1947 il capo provvisorio dello stato enrico de nicola promulga la costituzione della repubblica italiana che entrerà in vigore il primo gennaio 1948 chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 27 dicembre ricordiamo l'attrice tedesca marlene dietrich l'attore francese gerard de pardieu la citazione del giorno prima di desiderare fortemente una cosa bisogna verificare quanto sia felice chi la possiede françois de la rochefoucault dice il saggio i consigli sono come il sole d'inverno possono illuminare ma non riscaldare il bel paese nel cuore del salento precisamente a sud di otrento si trova la cava di bauxite un giacimento di estrazione mineraria ormai dismesso dove le acque di uno straordinario verde smeraldo hanno avuto la meglio formando un affascinante lago che prende il nome della cava di un colore rosso cupo il mix di colori è estremamente suggestivo e la bellezza del luogo scoperto nel 1940 e sfruttato per circa 30 anni ai fini di prelevare bauxite è mozzafiato il colore rosso intenso della cava che circonda le acque del lago viene spesso utilizzato per la produzione di artigianato locale grazie a tutti